Il sindaco ha specificato durante l'incontro i motivi dei ritardi, a nostro avviso in maniera insufficiente. I lavoratori perciò hanno deciso di conoscere nei dettagli le indicazioni fornite dalla primo cittadina e dopo l'assemblea in programma il 10 ottobre delibereranno le azioni da porre in essere non escludendo il ricorso allo sciopero. Sono tutte qui nelle parole del segretario della Camera del Lavoro di Modica, Salvatore Terranova, le ragioni del rinvio del sit-in dei dipendenti comunali di Modica in programma ieri mattina. Come avevamo anticipato, un rinvio più tecnico che sostanziale, anche perché nelle parole dello stesso Terranova si ventilano azioni che vanno ben oltre il sit-in, appunto, lo sciopero. E anche questo sarebbe un dato di per sé molto preoccupante. FS 2022-23 non liquidato, passaggi a tempo pieno del personale part-time, progressioni verticali, nuovi dipendenti, organico insufficiente, del resto non sono questioni risolvibili in un amen. Anche se su questo fronte la CGL sottolinea come alcune di queste problematiche sollevate possono essere risolte in tempi brevissimi. Invece ci si accorge che tutto viene rallentato, adducendo motivazioni tecniche che possono essere, a nostro avviso, superate nel rispetto delle norme e delle leggi. L'assemblea di giorno 10 prosegue Terranova delibererà le azioni che saranno intraprese per ricevere tutti i pagamenti dovuti ai dipendenti nella trasformazione dei contratti a tempo pieno dei dipendenti a 35 ore settimanali e le misure di attivazione per le progressioni verticali. Da parte della CGL si evidenzia la necessità che il sindaco apra un dialogo più adeguato in ordine a queste problematiche evidenziate che dovrà capire che, essendo sindaco, ha l'obbligo istituzionale di creare le condizioni per attenuare il malessere che attanagli ai dipendenti, conclude Terranova, i quali non ricevono le loro aspettanze maturate nel 2022 e nel 2023 relativamente al FES. Appunto si annunciano venti di tempesta dalle parti di Palazzo San Domenico e non solo per i dipendenti, anche perché sugli altri fronti, vedi cooperativi e sociali, i passi in avanti sono ben pochi. Prendere tempo senza risolvere alla radice delle questioni, vedi approvazione degli strumenti finanziari, potrebbe rappresentare per l'amministrazione comunale più un nuovo problema, agguendo la protesta in atto, che è una soluzione ovviamente non definitiva. La Sicilia delle tre culture, l'exio magistralis del professor Roberto Tottoli, ha aperto ieri mattina un evento storico, ovvero l'inaugurazione dell'anno accademico 2024-25 dell'Università di Catania, che proprio a Ragusa ha scelto di celebrare uno dei tre eventi previsti per l'occasione, 590esimo di fondazione dell'Università dall'Aula Magna di Santa Teresa. Il corteo ha attraversato Ragusa e Ibla per giungere a San Vincenzo Ferreri. Quasi 800 iscritti, 5 corsi di lauree ospitati, i numeri di una presenza, quella dell'Università di Ragusa, impressionante se si pensa da dove si era partiti. Nel suo discorso inaugurale il rettore Francesco Priolo ha fatto il punto dell'attività realizzata e della destinazione, titolo peraltro della presentazione, verso cui si sta andando. Troverete nel dettaglio i risultati che insieme abbiamo raggiunto nel report. Il titolo è destinazioni e si lega idealmente alla nostra tagline ovunque da qui. Tengo a dire però che questa scelta non richiama tanto mete geografiche anche lontane verso cui indirizzare i nostri giovani dopo la laurea, quanto gli approdi personali di crescita e realizzazione professionale. Destinazioni, quindi, come punti di arrivo transitori o definitivi, ma anche azioni, come mattoni per costruire nuove e concrete possibilità di sviluppo per l'Ateneo, le sue comunità e il suo territorio. Prevenzioni e stili di vita corretti, come? Attraverso la conoscenza e la formazione, specie per i più giovani. Questo è l'obiettivo della giornata divulgativa in corso di svolgimento ieri e oggi al liceo scientifico Fermi di Ragusa, al centro l'educazione sessuale e l'infertilità. Noi abbiamo intitolato questo incontro, amati immensamente e difenditi sempre, proprio per prevenire, sin dall'età di 14, 15, 16, fino a 18, 19 anni all'età della maturità, tutto quanto possa essere preventivo per quanto riguarda la sessualità. Oggi le malattie sessualmente trasmesse sono in aumento, soprattutto tra i giovani, anche nella parte orientale dell'Europa supera quella occidentale di molto, in percentuale, ma quello che viene fuori da qualsiasi tipo di studio è che i giovani non hanno ancora preso consapevolezza di queste patologie. È una patologia che non viene assolutamente considerata. La donna va dal ginecologo ma il maschietto non va dall'andrologo abitualmente. Sia per cultura sia per vergogna l'uomo non va assolutamente dall'andrologo. Una volta c'era il servizio di leva obbligatoria per cui il ragazzo ha 18 anni e veniva sottoposto a una visita andrologica di routine per cui le patologie anche di basso impatto urologico e andrologico venivano diagnosticate in tempo. Sono le stesse patologie che poi nel tempo possono portare in fertilità, quali patologie bananissime che possono essere assolutamente trattate molto precocemente, quale il varicocele o altre patologie. Benvengono questi convegni perché uno può rivolgere al giovane delle attenzioni e dare delle comunicazioni importanti quale può essere appunto la prevenzione. Perché la prevenzione? Perché sappiamo che tantissimi tumori possono trovare la loro origine, magari tumori in età adulta, possono trovare l'origine negli stili di vita dei giovani che sono magari degli stili di vita poco sane, cioè l'uso per esempio di alcol, il fumo, l'uso di sostanze nocive che danneggiano sin dalla giovane età organi che poi possono presentare dei tumori. Una testimonianza l'ennesima che l'eccellenza non è questione di geografia e che il rapporto tra sport e risultati è solo. Sembra facile a dirlo, molto più difficile a realizzarlo il frutto di passioni, impegni ed entusiasmo. Lo dimostra ancora una volta il centro Equitation La Contea che, come vedete nelle immagini, sta recitando un ruolo da assoluto protagonista con i suoi allievi alle finali nazionali del progetto Sport che uniscono tutte le regioni d'Italia all'Orses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano. L'iniziativa targata Fise, Federazione Italiana Sport Equestri, vede infatti Gaetano Migliore impegnato nelle categorie 90 con poni 100 e 110 a cavallo. Un trittico impressionante visto che lo stesso Migliore ha dominato la selezione siciliana per accedere direttamente alle finalissime nazionali. Una grandissima soddisfazione per il Cavaliere della Scuola Modicana che fa il paio con l'affermazione di Sofia Rizza, regina nella categoria junior a livello regionale per 80 e 90, un unicum visto che solitamente si riesce ad entrare in una sola categoria. I giovani cavalieri della Scuola Modicana saranno impegnati nelle gare fino a domani contro i colleghi provenienti da tutte le altre regioni e con la possibilità ancora una volta di far sventolare con orgoglio il vessillo della Scuola Modicana su tutto il territorio nazionale. Un modo per ribadire la grande forza, competenze e qualità degli istruttori della società modicana che vive da protagonista il mondo dell'equitazione. Modica, Scicli, Acate e Monterosso Almo due mesi di eventi tra musica e danza che animeranno le piazze dei comuni coinvolti e le notti d'autunno cartellone interamente realizzato grazie al contributo della regione siciliana. A Modica si inizia questa sera con la prima edizione del Replay Music Festival, manifestazione che durerà otto settimane e che prevede l'esibizione di alcune delle migliori cover band siciliane, protagonisti in serata e Radio Freccia. Adacate sempre questa sera il concerto di Deborah Iurata accompagnata dalla Woman Orchestra e Gospel Choir. Il 16 novembre sarà la volta di Monterosso Almo che ospiterà una tappa del Parola Tour di Giovanni Cacca, momento il 23 novembre a Scicli sarà la volta del Festival delle Belle Arti con esibizioni in Piazza Italia di Ambetta, Amilcar, Francesca Tocca e Aaron. Si deve continuare a dare un'offerta anche a chi vuole venire, conto meno a risiedere o utilizzare quelli che sono gli esercenti del centro storico anche per i fini settimana. Quindi abbiamo pensato quest'anno, sottoscritto, ha voluto mettere a disposizione delle risorse per poter fare un progetto pilota che noi cerchiamo di portarlo e lo porteremo avanti anche nei prossimi anni. Principalmente è quello di unire i centri storici del nostro territorio, ma anche cercare di fare un grande evento che in questo momento in Italia non ce n'è. Quindi il Festival delle Coverbenti vogliamo far diventare un festival a livello nazionale dove già al giorno dopo che completiamo questi due mesi di spettacoli si possono incominciare a descrivere e quindi prenotare per il prossimo anno e fare proprio una vera e propria competizione con tanti premi finali per chi vince questa Kermess. Quindi cercare di poter fare un evento che dura due mesi per cercare di poter tirare più possibili turisti, ma anche quelli che sono residenti delle città vicino. Come si è fatto per scenari, scenari e rappresentazione dei libri non concentrati su due o tre giorni, ma concentrati e spalmati su un periodo molto più lungo che attira tante persone per tanti fine settimana? Lo stesso vogliamo fare con questo Festival delle Coverbenti per dare anche una possibilità di vetrina a tanti artisti che si vogliono mettere in evidenza. Quindi musica, arte, sicuramente sostegno alle attività commerciali, questo è quello che vogliamo fare con questo progetto e quello che vorremmo portare avanti come Regione Sicilia. C'era un tempo decenni fa quando le strade di Ragusa Superiore brulicavano di vita e le putie erano il cuore pulsante della comunità. In via Matteotti, in via Sant'Anna, in via Roma e nelle stradine circostanti le botteghe di venditori di prodotti freschi, sia ittici che ortofrutticoli, provenienti dalle vallate vicine al fiume Erminio, creavano un vivace mercato. Era un'epoca in cui la città respirava al ritmo delle attività quotidiane e la gente si incontrava per scambiarsi i sorrisi. A quell'epoca andata e dedicata a Supra, la nuova 29esima edizione di Ibla Baskers, iniziata ieri, il Festival degli Attisti di Strada che si propone di risvegliare quella memoria collettiva, riportando la vitalità e l'energia nel centro storico di Ragusa Superiore. Gli organizzatori dell'Associazione Trisi vedono in questa edizione un bagno rigeneratore per Ragusa Superiore, un intervento che, come già avvenuto per Ibla in passato, mira a rivitalizzare spazi urbani abbandonati o trascurati, trasformandoli in luoghi di incontro e cultura attraverso l'arte di strada. Il Festival ha già avuto esperienze positive a Ragusa Superiore, l'ultimo in ordine temporale, l'edizione speciale dedicata a Henri Blondot durante il Covid, un successo che spinge gli organizzatori a ripetere e ampliare la presenza nella città, sviluppando un evento ricco di attrazioni distribuite in vari punti strategici del centro storico, dal Ponte Vecchio fino alla Via dei Lumi, ovvero Via Matteotti, dal Utunno, Re e Putie, tra Via Sant'Anne e Via Rapisardi e discesa Santa Maura, luoghi un tempo del mercato contadino e di tantissime popolari botteghe e negozi, alla strada Mastra, oggi Corsitalia, includendo Piazza San Giovanni, Piazza delle Poste, area del Vescovato, il cortile della Prefettura con il passaggio verso il Comune, vari angoli di Via Coffa, Via Roma e Piazza Salvatore, il reticolo di Viuzzi attorno alla chiesetta di San Sebastiano, gli spazi scelti per la loro importanza storica e culturale, teatro di performance che mirano a restituire vite e attenzione a questa parte della città.